Buon lunedì primo febbraio. Gesù libera l'uomo che vive nella terra pagana da una legione di spiriti puri legato ai ceppi esteriormente e interiormente, quei ceppi interiori che sono efficacemente rappresentati da una legione appunto di un numero infinito di spiriti impuri. Sono le infinite possibilità di auto consegnarci a una dimensione impura perché è assenza di libertà autentica, quella libertà che ci è stata donata e che noi dobbiamo imparare a coltivare attraverso la creazione di relazioni sane e liberanti e non insane e incatenanti. relazioni che ci portano quelle sane e liberanti nella liberazione prima di tutto dal senso della paura e dalla ricerca di sicurezze incatenanti per vivere nella dimensione autenticamente nella dimensione della fede, della gioia e del cammino. Nella fiducia naturalmente che quel cammino non è semplicemente un invito alla speranza, ma a una vita autenticamente libera momento dopo momento. c'è tanto bisogno in questo tempo di liberazione dai troppi spiriti incatenanti impuri che caratterizzano i nostri stili di vita e i nostri comportamenti. Ascoltiamo dunque la parola che ci salva, apriamo uno spazio di meditazione e riflessione e lasciamo che gli spiriti impuri se ne vadano e coltiviamo la dimensione della relazione e della pedagogia della libertà. Buona giornata a tutti.